Celebrazioni per il 171esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, anche nella BAT con la cornice di Castel del Monte a fare da location per l'evento. Andri ha accolto la questura, i commissariati della Sesta Provincia Pugliese e le autorità del territorio. Che anno è stato per la Polizia? Sicuramente è stato un anno molto impegnativo e questa è l'occasione per ringraziare tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato per l'impegno che hanno profuso e che ci hanno permesso di conseguire dei risultati molto importanti dal mio punto di vista, sia per quello che concerne il controllo del territorio, risultati investigativi e poi tutte le varie iniziative che ci hanno visto i protagonisti tra la gente. Prezioso il legame tra le forze dell'ordine e le nuove generazioni, messaggi, lettere ed esibizioni musicali da parte dei licei della BAT nella mattinata di Castel del Monte. È importante il supporto costante anche del Governo centrale per quel che riguarda l'arricchimento della materia prima e della mano d'opera in un territorio così difficile e così dinamico anche. Sì, ha detto bene. C'è grande attenzione da parte del Ministero, progressivamente è stato inviato personale e contiamo nel giro di un tempo ragionale di riuscire a raggiungere il pieno organico. Come diceva lei, è un territorio molto impegnativo e proprio per questo c'è bisogno di grande impegno da parte di tutti noi. Encomi e premiazioni infine per i poliziotti che si sono distinti nella loro operatività, commissariati al lavoro per potenziare organici attività nei prossimi mesi. Il 171esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, un legame importante tra la questura della BAT e il commissariato di Barletta. Certamente, anche per il ruolo fondamentale che ha avuto il commissariato, non dimentichiamo i fenomeni delittuosi importanti che si sono verificati nel corso dello scorso anno. Tutti fortunatamente risolti con un esito positivo, senza tralasciare da ultimo, il 30 marzo, la sentenza di condanna in primo grado di Boraccino e di Sarcina. La conferma di una impegnata attività investigativa svolta dal commissariato e dalla squadra mobile di Andrea. Quindi in questa cornice è importante ricordare quelli che sono i risultati dei sacrifici svolti dai componenti della Polizia di Stato.